Il frutto più bello della scelta profetica di Fani e Acquaderni possiamo sintetizzarlo in un menù. Un antipasto per il paese. Negli anni in cui si costruisce, non senza difficoltà, l'Italia unita, Fani e Acquaderni pensano questo paese tutto insieme con la Società della Gioventù Cattolica Italiana. Un primo per la Chiesa, perché nella scelta di Fani e Acquaderni nasce un laicato che tra le parole sa riconoscere e scegliere la parola. E infine un dolce per i piccoli, perché dalla loro intuizione nascerà la CR, che ha restituito la parola ai piccoli grazie al servizio di giovani e adulti. Per questo ci vediamo l'8 settembre a Vitorio.